E viva e viva e viva lunedì, che bello il lunedì, io odio lunedì, sì qua, buon lunedì a tutti, buon lunedì a tutti. Allora, se ci siamo tutti cominciamo, siamo già in diretta sul web, mi sono messo la cravatta per l'occasione così sono bello ed elegante. Abbiamo fatto un consiglio federale lungo e costruttivo, abbiamo approvato il nuovo simbolo della Lega Nord, che depositeremo domenica, con cui ci presenteremo alle elezioni europee, anzi al referendum pro o contro l'euro del 25 maggio ed evidentemente, avendo fatto e facendo decine di iniziative in cui parliamo di futuro, di moneta, di lavoro, di speranza, a differenza del passato, quando c'era il nome del segretario federale nel simbolo, quindi c'era Lega Nord Bossi, Lega Nord Maroni, in questa occasione diamo una connotazione assolutamente politica e legata al futuro, al simbolo che è questo, che potete vedere, Lega Nord, Basta Euro, che per noi è la sfida di Davide contro Golia, perché ogni giorno lo legiamo, a favore dell'euro c'è Confindustria, ci sono i sindacati, c'è il PD, c'è Forza Italia, c'è lo stesso Grillo, ci sono tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di dire che fuori dall'euro riparte il lavoro. E noi lo mettiamo nel simbolo, quindi nessuna battaglia personale, ma una battaglia politica e di futuro. Al simbolo si aggiunge un altro fattore importante che è la parola autonomie, visto che ci presenteremo convintamente in tutta Italia, da nord a sud, con liste forti di uomini e donne, da nord a sud, autonomie, va ad assumere un accordo con tantissime realtà che sono avvicinate alla Lega e alle nostre battaglie, in Sicilia, in Sardegna, in Tirolo, in Puglia, nella stessa città di Roma, dove settimana prossima andrò ad aprire una sede della Lega e dove ci saranno gazebo per la raccolta di firme per il referendum vicino al Colosseo. E quindi autonomie va ad assumere il fatto che la Lega si presenti in Europa come casa delle identità, delle patrie, delle autonomie e dei popoli. E poi c'è un simbolo anche di un movimento tirolese che sono i Frei Heizchen, altri ragionamenti sono in corso con movimenti autonomisti e indipendentisti da nord a sud, dalla Sardegna a Val d'Aosta, dalla Sicilia al Salento, quindi la battaglia per uscire dalla gabbia dell'euro è quella che faremo nei 60 giorni che mancano, in perfetta solitudine, ma meglio soli che male accompagnati, ci rivolgiamo alle enorme fetta di elettorato, soprattutto del centro-destra, agli elettori di Forza Italia, agli elettori di Berlusconi, a quegli imprenditori, a quelle partite IVA, a quei giovani e a quegli artigiani che si sono resi conto che l'euro è la morte. Quindi ci riteniamo l'unico riferimento del centro-destra da nord a sud che possa fare convintamente coi numeri questa battaglia. I sondaggi sono buoni, in alcuni casi perfino troppo buoni, e mi fanno sospettare toccare ferro, però vuol dire che il messaggio comincia a passare. Questa è la sfida che lanciamo. E' una sfida che, ad esempio, abbiamo provato a testare in questo fine settimana, in 1300 piazze, anzi ringrazio i colleghi giornalisti che ci hanno dato spazio, non tutti, qualcuno sì, qualcuno no, però ci siamo abituati, per un po' di carta stampata non esistiamo, qualunque cosa facciamo, per un po' di carta stampata, penso soprattutto ai grandi quotidiani che perdono lettori giorno dopo giorno e si domandino il perché, un peto di Renzi vale più di 1300 gadebo e di 100.000 firme. Però, evidentemente, se al Corriere e alla Repubblica interessano più i peti di Renzi, gli lasciamo scrivere dei peti di Renzi e poi la somma dei lettori la trarranno loro a fine mese. Quindi ringrazio invece tutti quei colleghi giornalisti che obiettivamente riportano quello che accade. E nel weekend è accaduto qualcosa di eccezionale. Do il microfono per un minuto a Eugenio Zofili, che è responsabile del nazionale referendum, perché non ci saremmo aspettati una risposta di questo genere. Sì, grazie segretario. Questo fine settimana è partita, ed è partita la grande, la campagna referendaria della Lega Nord, con i suoi cinque quesiti assolutamente chiari e concreti, quesiti veri che toccano i problemi del nostro territorio e della nostra gente, proposte assolutamente concrete, laddove altri parlano, la Lega Nord, anche questo fine settimana, lo farà per i prossimi mesi, ha fatto, insomma, i fatti. Sono stati posizionati il 29 e il 30 di marzo, questo fine settimana, 1.379 gazebo in 13 regioni del centro e del nord. Sono stati coinvolti i nostri, oltre i nostri 5.000 amministratori comunali, che hanno autenticato le firme delle persone che si recavano il gazebo per sottoscrivere i quesiti, sono stati anche amministratori, non della Lega, che ci hanno aiutato in modo autonomo in questa campagna referendaria. Sono state raccolte oltre 100.000 firme, questo è il dato. L'obiettivo, per l'esattezza, 101, che è anche un numero che porta buono. Quindi si parte da 101.000, l'obiettivo è 500, però 101.000 firme in un solo weekend è un risultato assolutamente incredibile. L'obiettivo, appunto, per legge è 500.000 firme, noi contiamo di raccoglierne almeno 600.000 per ogni quesito e raggiungere un totale di 3 milioni di firme complessive. Ci sono tre mesi di tempo, noi non ci fermiamo assolutamente, anzi, siamo ben determinati con i nostri 20.000 militanti, con i nostri 20.000 militanti assolutamente operativi, con altre tanti, e ci sono anche tante altre persone che non militano nella lega e che vogliono partecipare a questa campagna. Al 12-13 di aprile, data importante, saremo ancora sul territorio con una gazebata, un'iniziativa forte come quella di questo fine settimana, per raccogliere le firme. Nel mentre saremo presenti nei mercati, saranno organizzati altri punti di raccolta. Da oggi, in tutti i comuni del nord, del centro e del sud, negli oltre 8.000 comuni, ogni cittadino può andare a firmare i 5 quesiti. Andremo anche a Roma con il segretario federale Salvini a fare un gazebo che, peraltro, c'è stato, questo fino a settimana è andato benissimo. Per quanto riguarda la distribuzione delle firme, chi si è recato a gazebo ha firmato in modo abbastanza omogeneo, anche se i quesiti che hanno ottenuto maggior gradimento sono quelli della Fornero, è il quesito che riguarda l'abrogazione a legge Fornero, il tema del lavoro e delle pensioni, l'abrogazione della Merlin per tassare la prostituzione e l'abolizione delle prefetture sulla scia delle proposte e delle decisioni del governo Renzi di abolizione, di cancellazione delle province. Per quanto riguarda l'organizzazione della campagna referendaria, qualche dato. Abbiamo un numero dedicato, lo 0266 234 234, operativo anche in questo momento, assolutamente intasato di telefonate, chiamano da tutta Italia, tante telefonate dal centro e dal sud. Il 29 e il 30 hanno chiamato in tanti, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle regioni del sud, volevano il gazebo e chiedevano informazioni sui gazebo organizzati in Meridione. Abbiamo risposto che è possibile firmare in tutti i comuni. Quel che è dato sul web, perché la Lega Nord e la campagna referendaria, oltre a essere presente nelle piazze e in mezzo alla gente, come fa sempre la Lega, è presente anche sul web, non c'è solo Beppe Grillo con il suo Movimento 5 Stelle, siamo noi, siamo veramente forti anche online, siamo presenti sui social, su Facebook, su Twitter, su YouTube, su Google+. Qualche dato, in quest'ultima settimana, segretario, 1.200.000 utenti sono stati raggiunti attraverso la pagina Facebook della Lega Nord, attraverso la pagina Facebook della campagna referendaria, viene a firmare. Quest'ultima settimana ci sono stati 10.000 nomi mi piace, 10.000 visualizzazioni di spot, video, YouTube, e 3.000 citazioni dell'hashtag viene a firmare. Per quanto riguarda il sito internet della campagna vieneafirmare.org, sono state inserite un migliaio di foto nel sito, per essere esatti e non sparare cifre così, 750 foto, sui social media stimiamo un inserimento di oltre 5.000 foto dei gazebo, delle persone che si scavano ai vari punti di raccolta dei punti di raccolta per firmare. Chiudo e ringrazio, ci tengo veramente a ringraziare i militanti che hanno partecipato e parteciperanno a questa raccolta, i volontari del comitato referendario viene a firmare e tutti quelli che hanno firmato e firmeranno i nostri quesiti. Anch'io ringrazio Eugenio e i volontari, non virtuali ma reali. La sfida a Matteo Renzi, io per i prossimi 60 giorni, ogni giorno, ogni mattina, twitto, lui twitta e io ritwitto, e gli chiedo, firmi o non firmi? Io chiedo a Renzi, chiacchierone, che sta cercando soldi e cerca inutilmente di vendere le autobus, se firma per chiudere le prefetture e se firma per tassare la prostituzione. La legge Fornero non glielo chiedo neanche perché a lui piace, a differenza di tanti italiani, però continueremo a chiedergli e chiedere è lecito, rispondere è cortesia, visto che il ragazzo si dice simpatico e cortese, siamo sicuri che ci risponderà, un sì o un no, però visto che sta cercando di raccattare soldi dai conti correnti alle vedove di guerra, noi gli mettiamo sul piatto d'argento qualche miliardo di euro, qui chiediamo a Matteo Renzi, se oltre a litigare col suo partito, a tempo gli facciamo un gazebo davanti a Palazzo Chigi o a casa sua a Firenze per firmare, per tassare le prostituzioni in troito previsto 4 miliardi o per chiudere le prefetture risparmio previsto 500 milioni. E quindi per 60 giorni saremo ripetitivi, vediamo se sarà educato o maleducato, almeno sull'educazione contiamo. Identica richiesta faremo a signora Boldrini, che oggi, lo dico con sgomento, ha detto che non si possono trattare bene i turisti e male ai migranti e quindi dal suo punto di vista bisogna accogliere in strutture di lusso anche i cosiddetti migranti. Anche a lei chiederemo di firmare per limitare agli italiani la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici. Da questo hanno firmato tantissime persone non leghiste, alcuni amministratori locali, alcuni assessori, alcuni sindaci di destra e sinistra. E quindi è una bella battaglia. 100 mila firme in un fine settimana dal nostro punto di vista sono un risultato impensabile e quindi contiamo che per la data di Pontida che quest'anno sarà una cosa enorme domenica 4 maggio contiamo se non di essere arrivati a 500 mila di esserci vicini e quindi in ogni fine settimana e anche durante la settimana saremo ai mercati saremo fuori dagli uffici postali saremo fuori dai circoli arci fuori dalle sedi sindacali apre e chiudo la parentesi CGL Cisle Will se ci siete battete un colpo raccolsero due anni fa le firme per cancellare la legge Fornero poi firme inutili perché ci furono convocate le elezioni quindi mi auguro che tutti gli iscritti a CGL Cisle Will vengano a sostenere i nostri referendum identico appello faremo a Silvio Berlusconi perché qualcuno di questi quesiti potrebbe rientrare nelle sue corde e quindi senza limiti ideologici o partitici contiamo di portare 60 milioni di italiani a votare su questi quesiti Beppe Grillo ha detto che la Lega è un movimentino questo movimentino esiste non solo sul web ma nelle piazze e se questo movimentino riuscirà a cambiare il paese con questi cinque referendum io ne sono orgoglioso e se questo movimentino riuscirà a cambiare Europa con una battaglia di libertà e di futuro io ne sono contento entro il mese di aprile faremo un altro incontro con Marine Le Pen per fare la strategia comune per liberare l'Europa dalla gabbia di matti che ci hanno costruito intorno detto questo sono assolutamente felice del fatto che la Lega stia correndo ripeto non solo sui sondaggi che mi interessano poco ma nelle piazze e nel cuore della gente e quindi quando torni a essere nel cuore della gente non ti possono fermare in alcuna maniera se c'è qualche domanda sono a disposizione altrimenti esco anche io per Milano a raccogliere firme molto bene grazie a tutti e buon ascolto a chi ci ha seguito in diretta radio in diretta web grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti